La ritrovata flegrea contro la smarrita sport mania non si gioca al pala butangasse ma al Pentius di Agnano subito un tentativo degli ospiti con questa conclusione poi ancora lo sport mania pericoloso con Falcone che smalaccia sopra la traversa sempre sport mania pericoloso nel primo tempo attenzione a questa chance con la percussione centrale la rete dello 0 a 1 al dodicesimo minuto il vantaggio lo sport mania prova a reagire la flegrea in aria di rigore la percussione centrale la conclusione sul fondo poi arriva il gol l'errore in fase di possesso la palla dentro con la strancio che trova il la varco vincente per l'1 a 1 al ventunesimo in chiusura di prima frazione il palo colpito da sanzione con le immagini andiamo alla ripresa subito un'iniziativa degli ospiti con lo sport mania che va vicino al gol poi ancora il tentativo di Sirico da distanza con la grande parata di Guerriero qui già munito sanzione tuttavia il pallone i giocatori la flegrea recriminano per l'espulsione non assegnata dall'arbitro arriva invece il gol della 2 a 1 targato Sirico al 9 minuto della ripresa in certezza di Guerriero nella circostanza poi ancora questa chance per Strangio l'azione di Petolicchio fa tutto benissimo l'uscita valanga di Falcone poi la ripartenza della flegrea arriva il 3 a 1 di Carcatella splendida questa azione corale con la rete che sembra poter chiudere il match al 14esimo non è così perché reagisce lo sport mania trova subito la rete del 3 a 2 con questo sinistro sotto la traversa targato Sansone al 18esimo poi ancora pericolosa la formazione ospite con questa conclusione deviata ci pensa poi l'estremo difensore dello sport mania a negare il gol qui poi ancora la clamorosa occasione fallita da rilievo e il tentativo dello sport mania con Marco Bonadies Santimone schierato portiere in movimento nei minuti finali la parata di Falcone poi ancora il tentativo qui di Rimoli si salva l'estremo difensore della flegrea guardate cosa accade praticamente all'ultimo minuto di recupero qui c'è forse un fallo su un giocatore della flegrea che resta a terra si tratta di Sirico sull'altra sponda invece arriva il fallo che definisce il tiro libero per gli ospiti guardiamo la manata al volto di Sirico proprio sotto gli occhi del direttore di gara che lascia proseguire sull'altra sponda invece c'è il fallo della flegrea anche in questo caso con qualche dubbio che stancisce il tiro libero per lo sport mania tantissime le proteste soprattutto quelle del tecnico Falcone che va ad indicare il giocatore a terra il gioco non interrotto viene espulso il tecnico viene espulso per doppia ammunizione anche il giocatore rilievo rilievo e poi la Santimone trasforma praticamente alla 66esimo il gol del 3 a 3 il tiro libero che sancisce il finale della contesa con tante recriminazioni da parte della flegrea e lo sport mania che strappa un punto sudatissimo come detto benissimo abbiamo perso un pochettino dopo le tre vittorie consecutive forse i ragazzi pensavano che eravamo già salvi ma in questa categoria avevano perso un po' di mordente ma anche in tre o quattro settimane ci alleniamo con pochi elementi oggi devo dire la verità ci mancavano tre persone fondamentali Garofalo, Manzo e Taffaro il portiere quindi penso che abbiamo fatto una grande partita abbiamo fatto un paio di errori e le abbiamo pagate però alla fine fortunatamente almeno un punto siamo riusciti a portarla a casa guarda io devo fare una parentesi prima non ho mai parlato fino ad oggi della classe arbitrale di quello che succede se non dal punto di vista del gioco oggi è stato un vero scandalo se devo pagare la giovinezza dei miei ragazzi l'inesperienza della mia società il peso mancante della mia società all'interno di una categoria io posso anche ritirarmi da questo campionato non esiste che gli arbitri non facciano gli arbitri alcune risposte denotano da parte del settore arbitrale una carenza totale sulle norme di regolamento ho preso l'ultimo gol come dicevi tu con un ragazzo che ha preso una manata al volto l'arbitro ha risposto che non è problema suo penso che da regolamento sia problema suo quando si fa male qualcuno alla testa è proprio specificato deve fischiare la squadra avversaria non ha avuto neanche la sportività di mettere la palla fuori sono ripartiti i ragazzi stavano pensando al compagno ho preso gol dal punto di vista del gioco la meritavamo sicuramente noi la partita loro non hanno fatto nulla in fase offensiva quindi non c'è da parlare su quello peccato perché oggi il peso della mia società si è fatto sentire è completamente assente gli arbitri lo sanno penso che uno dei due era prevenuto da altre gare fatte infatti questa è un'altra è un'altra anomalia vengono sempre gli stessi ad arbitrarci secondo me è una cosa impossibile ci conoscono conoscono i dirigenti gli allenatori se gli ha dato fastidio una cosa della volta prima di un giocatore perfino che si ricordano prima della partita ma come fanno poi a non essere prevenuti nella direzione della gara deve cambiare io mi faccio promotore per tutti gli altri anche presidenti dobbiamo fare qualcosa grazie grazie